Ciao belli! Abbiamo fatto schifo. Ieri sera è live, uno schifo più totale, 13.18, 5 partite sotto, siamo a 6.000, recupereremo. Non mancate questa sera alle 20.30 perché ci sarà il torneo per abbonate dei Grax e poi faremo anche scalata, ci divertiremo, vi aspetto. Vi chiedo come sempre un like perché oggi farò un attimo un tutorial tattico sulla rotazione dei bauli. Iscrivetevi, ne mancano pochissimi per l'1,41. Codice Grax lo vedete qua sotto e va alla fine dello shop, sia per lo shop del pass che per lo shop delle offerte. Così via. Siamo su Royale, voglio fare delle partite molto tattiche, le devo vincere per farvi vedere come funziona la rotazione dei bauli. Molti che sono tornati a giocare a Royale mi hanno chiesto, Grax, ma come fai a sbloccare le casse dorate? Le casse dorate, boys, sono all'interno della rotazione dei bauli. Vi ricordate le vecchie strategie di farming dei bauli, quelli con le applicazioni stats Royale, eccetera? Adesso ne parliamo, intanto me ne apro una piccolina, molto tattica, guardate che carina, sbam, tutto oro, 1429. Piccola curiosità, non so se ve ne siete accorti, ma nei bauli cambia la serratura, cioè c'è quella di bronzo, quella di argento e quella dorata, in base alla grandezza della cassa. E ne apro un'altra di bronzo, che è il taglio quello più piccolino, da 1.800. E prima di andare avanti a giocare vi faccio vedere l'applicazione. Voi scaricate Vestazzo Royale o qualsiasi altra applicazione dove potete sincronizzare il vostro ID. Aggiungete l'hashtag, che è essenzialmente quello che avete nel profilo esattamente sotto al nome, il mio è JJYP08. Se volete tenermi sotto controllo l'account potete sincronizzare il mio account. Vi fa vedere tutte quante le statistiche dell'account. 14.000 win, 11.000 sconfitte, quindi più win rispetto alle lose. Tanta roba, vittoria del colone pochissimi perché ho sempre giocato col 2.6, scendendo sotto, ti fa vedere il deck, ma soprattutto i prossimi bauli. Su Stazzo Royale non hanno implementato la cassa d'oro, ma vi posso assicurare che la cassa d'oro è entrata all'interno della rotazione di 500 bauli. Come ben sapete, ogni account ha le stesse casse che sono 500. Una volta arrivati alla 500esima, si rinizia da capo e il baule leggendario, il baule super magico, super cangiante, ma non mi ricordo il nome, se ne possono droppare uno ogni 500 e vengono messi in posizioni casuali all'interno di queste 500 casse. Molto semplicemente, qui vi dice il prossimo baule che sbloccherete, perché è tutto quanto schedato e secondo me anche le gemme all'interno delle casse sono tutte quante precise, secondo l'algoritmo del drop nulla viene regalato gradutamente. Cassa argento la prossima, argento quella dopo, quella dopo ancora argento, poi c'è un oro. Tra 20 bauli, c'è anche quello prossimamente, beccheremo il baule quello magico, 56 il super cangiante, 188 il leggendario, poi c'è anche la cassa epica perché l'ho beccata da poco, infatti dovrò girare altri 464 bauli, ci vorrà un botto. Ora ci facciamo un paio di partite, spero di vincerle perché se non le vinco non ve lo faccio vedere, se riesco a vincerle vedrete due drop di casse argento, let's go! Quindi se non droppate le casse d'oro non vi preoccupate perché prima o poi vi arriveranno, stanno in rotazione, anzi sincronizzate il vostro profilo per vedere se vi arriveranno. No, in realtà su Stats Royale no, magari consigliatemi qui sotto nei commenti delle applicazioni che vi fanno vedere anche le casse dell'oro. Dobbiamo vincere! Questo c'è pure meno coppe di me, devo cercare di portare a casa un meraviglioso deck counter, che sfiga! Un meraviglioso baule argentato che non ci faremo nulla, però dobbiamo andare avanti perché poi ci beccheremo il super cangiante e vi chiedo un like se volete il video del drop del baule cangiante con la partita e poi l'alloc. Dipende tutto da voi. Moschettiere che fa tre danni e, so sincero, non mi dispiacciono. Cerchiamo di ciclare, Sparky diciamo discretamente importante. E ultimamente, per chi mi segue live, la Sparky l'ha messo sempre, non riesco mai a difenderla. Mi dà sempre problemi, potrebbe avere il famosissimo Hulk. Hulk, e sapete bene che Hulk... Porca paletta, ragazzi. C'è questo me lincia. Non è che mi ammazza questo. Questo qua, ragazzi, me fa piagne. Questo me fa piagne, regà, calmi, mi serve il log velocissimo! Godo come un riccio, non mi chiedete quello che è successo. Mi è preso un colpo, devo vincere. Dagli, domatore, non ce l'ho tornato, dovrebbe fare almeno tre danni. Uno, due... Give me il terzo! Ti piacerebbe, Crax, ma ci siamo? Calmi. Qua metto un moschettiere con gelino. E si va in difesa. Buona, altri scheletrini. Difesissima. Siamo in vantaggio, ma ripeto, con la Sparky è un attimo e te purga. Quindi, wake up. Moschettiere che va dritto sulla torre. Ah, perché lo Spiritella ha il 12. Che fortuna. Se lui va con la Sparky andrò di Fireball. Vediamo, eccola qua, perfetta. Almeno posso roteare la Fireball per colpire la Sparky due volte. Sta botta, ragazzi, vado più pesante. E cerco di ciclare velocemente. Il moschettere comunque mi serve. Andiamo a ciclare una bella Firepallozza. Buona la sua fulmine. Attenzione. Buona la mia Fireball. Attenzione. Buono il mio cannone. Attenzione. Grossa difesa. Attenzione. E forse ci siamo. Il gigante elettrico lo purghiamo. Solo che lui ce l'ha tornato. Quindi fa pure rima. Che faccio? Mi conviene aspettare log pulito. Vai a fare chip damage. E se ci scappa fuori... Aia, questo fa male, ragazzi. Eppure parecchio. Devo un attimo fermare il signorino. Farlo tornare eventualmente indietro. Posizionare un moschettiere dall'altra parte. E così da colpirlo. Dalla distanza. Io lo faccio, ragazzi. Non me ne pento. Domatore. Che parte sulla torre. Un giorno, vi prometto, vi porterò un video con Stepney. Sono stracontento che è tornato a giocare. Spero di farci una 2v2 qualcosa. Un uno contro uno. Sicuramente ci divertiremo un sacco. Stepney, sapete, ragazzi, quanto lo stream è stata una fonte di ispirazione per me. Stepney e Dario Moccia sono stati veramente... I musi ispiratrici. Chiamateli come mi pare. I musi ispiratori. Non lo so, regà, quello che sto dicendo. Sono in tensione per il match. Occhio perché potrebbe fare una vagonata di danni. Quindi, instant. Domatore on the torre. Siete pronti per vedere il drop del meraviglioso baule argentato? Non sto scherzando, ragazzi. Funziona effettivamente. Non è che lo sto di a caso. Baule argento. Ok. Lo andiamo a sbloccare. Facciamo un altro match e poi vediamo se è cambiato qualcosa su Stats Royale. Però di solito ci metto un pochino ad aggiornarsi. Domatore! Leandro! Attenzione. Io devo recuperare. Io assolutamente entro fine stagione voglio almeno le 6 e 3 recuperate. Le 6 e 6 sono difficili perché con questo nuovo sistema di matchmaking si droppa di meno ma si sale veramente, veramente di meno. Ah, è a posto. Counter pure questa. Dove vanno a così, fratelli? Ok. Prova a barricarmi sperando che lui non abbia una fulmine. E quasi quasi prova a buttarmi sulla parte di destra. Vabbè ma lo fai apposta palesemente. È di livello 12 eh. Non ci ha detto neanche troppo male. Una volta l'abbiamo battuto. Tornato. Altro 80-20. Che spettacolo ragazzi. Quando si va a registrazione sulle soddisfazioni. Quando devo vincere perdo. Quando devo perdere vinco. Come è successo poco fa. Strega madre messa complemento a casaccio. Moschettiere che funziona. Livello 12 praticamente aperto in 10.000 pezzi. Lui ce l'ha tornato. Potrei sfruttare il moschettiere. Ma quasi quasi potrei anche azzardare una doppia lane di push. Perché lui sicuramente c'ha il bocciatore. E qui ragazzi ho fatto una gran giocata. Qui ho fatto veramente una gran giocata. Perché sono due danni del moschettiere. Forse 3-2. Con tanto di gabbia sprecata. E il moschettiere che hitta la torre. Grossa giocata di Grax. Per fortuna che l'ho mortato in video. Cotto come un riccio. Perché poi mi dicono cambia deck. Allora fermi. Arriva. Mastrolindo blu. Un attimo che mi fa una mara di danni. Cerco di rallentarlo un secondo. Non voglio prendere grosse botte sulla torre. Va giù. Le palle tirano da un'altra parte. Ci provo. Ma diciamo di sì. Dai. Sulla sinistra. Lesgo moschettiere forse un po' azzardato. Allora ho fatto danni sulla torre. Ed è positivo. Ma se lui mi entra con questo push ragazzi non lo racconto. Per fortuna il per 2. Che mi dà la possibilità di girare un meraviglioso moschettiere. Eh questi sono tanti danni ragazzi. Aspettate un attimo. Devo cercare di tenere. Mamma mia ragazzi. Non so come ho difeso. Non lo so. Fermate Craxe. Non ne prendere troppi please. Ne ho presi una vagonata. Ho sbagliato lane di push. Vabbè ormai non posso fare più niente. Stregamadre fireball veloce. Prima che possa trasformarlo in maiale porcellone. Hit che non è entrato. Che sfiga. Però ci siamo. Novecento di life lui. Posso solo provare a fare una cosa ragazzi. Forse ho sbagliato la lane. Ma butta dei Craxe che è morbido. C'ha pure il bocciatore. De tutte le carte c'ha pure il bocciatore. Comunque i danni ci sono. Dovrei fare almeno un danno. Ok. Questo è buono. C'ha la Fulmine che mi mette un pensiero. Veramente incredibile. Questo lo fermiamo. Fulmine che arriva. Con Gilino che viene tolto. Ragazzi. GG per lui. Vabbè. Uno l'ho battuto. Una l'ho persa. Me la date due counter. Questa era ancora più counter di quell'altro. La potevo vincere. Giuvando meglio la potevo vincere. Mi raccomando lasciate un like. Iscrivetevi campanella. Chiudiamo a... Ti prego non me la scriptare. Ve potete iscrivere gentilmente. Vi voglio bene. Iscrivetevi perché siamo quasi a 1,41. Attivate la campanella. Codice Crax. Andiamo a prenderci a questo punto. Con tutti quanti i baulozzi. Tutti quelli più top. 4.000 di monete. Arriverà anche il video per la war. Torniamo un attimo su Stats Royale. Aggiorniamo il profilo. Dovrei avere un baule argentato in meno. Esatto. Prima ce n'erano tre. Spero di essere stato chiaro sulla rotazione. Molto semplice. Scaricate la vostra applicazione preferita per calcolare i bauli. Ritorniamo su Royale. Vi saluto con la cassa dorata più grossa di tutte. Dammi qualcosa di buono. Mamma mia ragazzi 10k. Non sono pochi. Ci ribecchiamo per quanto riguarda i bauli. Con il baule magico e poi il super cangiante che conterrà chi lo sa. Vi aspetto. Bacioni. Ciao belli. Ciao ciao.